Buona l'intuizione. Zapata, grande parata questa. Palla in out, calcio d'acqua. E c'è l'autobold. Deviazione decisiva con cui ha spedito il pallone nella propria porta. E autogol, ci saranno davvero dubbi. Anche rivedendo l'azione al replay si nota il tocco decisivo che dirizza la palla in rete. Un autogol davvero...